a ho visto la vecchia oggi così c'è qua c'è un player c'è un player dietro la tenda lanciare la granata veloce chiara lancia lancia la lancia della veloce aspetti fammi bastardo non vuole sparare vai lanciare lì lì lanciare come devo fare che non mi ricordo r2 poi quadrato quadrato anche lo meno più caro ti ho detto dammi ne me no lo faccio io e lì fa il tir la fa ma che arriva anche lo zombie via è andato è andato ma che arriva lo zombie me l'ho me l'ho me l'ho anche preso una roba minchia è andato sono andato minchia c'ho la vita bassissima dai curati minchia devo curarmi sanguilo minchia butto il sangue come un maiale ora svengo anche io mi ha sparato quello mi ha sparato anche a me butto il sangue come un maiale adesso muoio ma devo bere anche io dai curati bevi minchia sono pusciata la via ma va come vado in giro va aiuto aiuto la granata come c'è con fucile minchia la granata come faccio a tirare di fucile colpi ci sono i colpi dimmi no 939 come faccio a tirarla mi dice prendi la pistola c'ha la pistola prendila oh io sono conciata la via va come mi muovo prendi la pistola prendi la pistola prendi la pistola per un miracolo divino c'è anche la SG perché c'è colpi di cosa che ho trovato prendi la pistola e la SG io mi sono preso il pompa c'è una mela pure oh si 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 aspetta questa mettila dietro la mettila qua minchia che bello come che mi ha dato andiamo nel gabbiotto del giorgiana che mi ha dato che mi ha dato